Regre del mondo e basta. Ovviamente tutto questo condito dal criterio, quello che diceva Giuninio, che per soldi si può vendere anche la madre. Quello che abbiamo sempre detto. Quella è la mentalità brasiliana, questa è la base, la base sociologica della mentalità brasiliana. Da questo proviene, proviengono tutte le contraddizioni e ovviamente, per quel che si vede, non c'è una via d'uscita in questo momento, continueranno a essere un paese più grande del mondo, più allegro del mondo e niente più, purtroppo. Giuninio fa l'esempio di Neymar. Tipicamente è l'esempio, quando io leggevo questo a tanti le sarà venuta in mente la immagine di Neymar. Però Giuninio l'ha proprio la porta, dice, poteva avere tanto successo al Barcellona, ha preferito seguire i soldi del Paris Saint-Germain. E certo perché... Però adesso lui dice una cosa importante. Dice una cosa importantissima. E perché dice Giuninio, dice, è perché a noi ci hanno insegnato che, dice, dovevo andare, dice, da chi mi pagava di più. Esatto. E quello dice. Dice, e guarda Neymar, se n'è andato, dice, al Paris Saint-Germain soltanto per denaro. Dice, e il Paris Saint-Germain gli ha dato tutto quello che lui voleva e allora se n'è andato. Però aggiunge una cosa importante. Lui dice, però adesso è il momento di restituire, di mostrare grande, di mostrare gratitudine. È un intercambio, è uno scambio, dice Giuninio. Neymar ha bisogno, deve dare tutto quello che può in campo, per mostrare totale dedizione, responsabilità e liderato. Eh sì, va bene, però il problema è quello che dicevo io. Quello avrebbe se i calciatori brasiliani erano costanti, ma i calciatori brasiliani non sono costanti. Sono proprio, sembrano un elettrocardiogramma, sì. Sale, scende, sale, scende. E loro sono così, purtroppo. E questo, purtroppo, Neymar lo ha dimostrato tante volte che non è costante. Inoltre, quello che diceva pure Giuninio, il problema del Brasile è che ha la cultura della codizia. La cultura della codizia. E sempre vuole più denaro, più denaro, più denaro. Dice una cosa molto pesante nei confronti di Neymar, perché dice Neymar, ci sono due differenti Neymar. Uno come giocatore e uno come persona. Cioè lui dice come giocatore sta al livello dei primi tre del mondo, Cristiano e Leo. Come persona invece è una persona che non può gestire questo grande successo. Dice come persona, credo che è colpevole perché ha bisogno di auto-questionarsi a se stesso e crescere. Io non credo che abbia la capacità di auto-questionarsi, perché ovviamente per soluzionare un errore la base fondamentale è admetterlo. Se tu non lo ammetti non lo vai a soluzionare mai. Credo che Giulio Berrambucano fa una critica costruttiva, importante, molto molto seria, avallata anche come ci diceva Alberto da studi sociologici su questo. Noi lo diciamo da anni. Lo vengo spiegando da anni, no? Esatto. Non è la prima volta che lo dico. Qualcuno sui social ci ha anche detto che siamo dei razzisti. Non c'entra niente al razzismo. Quando Alberto parla di mentalità favelera. Eh sì, però no nel senso… Non nel senso di insulto razziale o sociale. Non è di insultare i poveri, per carità. Al contrario, si meritano molto di più quelle persone. Si meritano che non le calpestino la dignità come se la stanno calpestando. Non è quello il nostro scopo. E il nostro scopo è dire che purtroppo quella mentalità viene fomentata per certe persone, certi oscuri personaggi, perché di quella maniera si attaccano alla poltrona e mantengono il potere. Va bene, va bene. Dai, cerchiamo di recuperare il tempo che purtroppo i problemi tecnici abbiamo perso. Adesso ci andiamo a sentire i gol del Barça a Via Reale, il gol che è mandato lo Sperigos alla seconda. Io chiudo qui, chiudo definire il territorio reale. Aspettavo questo momento dal 1999. Sono felicissimo. Ieri ho festeggiato Alberto Testimone, Eloy e anche Eloy Gutierrez che era qui con noi a vedere la partita. Abbiamo festeggiato. A te li lascia indifferente. No, a me mi lascia triste, una squadra vada in Serie B. Vabbè, a te ti lascia triste, io sono molto felice. No, però ti dico, inoltre se tu vai a paragonare le altre due squadre che andranno in Serie B, che è il Mallorca e... E il Leganese, probabilmente. Il Leganese, probabilmente, e lo Sperigos giocano molto meglio. Godiamo ancora di più per questa cosa. Ripeto, io ero dal 1999 che aspettavo questo momento, da quando sono arrivato a Barcellona, che discuto, litigo e contesto tutto quello con lo Sperigos, che come tifoseria, mi dispiace dirlo, sono odiosi, cattivi, rancorosi... Permalosi. Permalosi. Vivono questa rivalità col Barça nel peggior modo possibile. Sono diventati, negli anni della modernizzazione del football, nel nuovo secolo, nel secolo XXI, una succursale del Madrid e si vede anche nei soci dell'Espagnol, i figli dei soci dell'Espagnol, quelli che oggi hanno 20-25 anni, sono del Madrid. Sono dell'Espagnol due volte l'anno quando incontrano il Barça. L'Espagnol rischia fortemente di sparire, anche come tifoseria, perché poi dopo si fa pagare. Adesso non avranno più il Barça da incontrare due volte l'anno e non ci avranno neanche più due volte l'anno regalare sei punti al Real Madrid. Quindi, attenzione, secondo me rischiano, perché se non ripengono subito in Primera Division, rischiano grossamente di sparire dalla faccia del football. Andiamo nella pausa, andiamo a sentire i gol tra Tiaracu di Villareal Barça e del derby contro l'Espagnol e poi prendiamo Roberto Bucci e Giussi Zaffiro. Ok, vamos. Per Alba è molto buona. A veure què fa Alba. La centrada Griezmann d'Esperó. Gol! 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 Preciós d'Antoine Griezmann! Griezmann! Això ha començat de nassos. La mobilitat de Sergi Roberto Clau. Luisito Suárez fent de boia, li dona la pilota al de Reus, que la posa amb profunditat per Alba. Alba guanya la línia de fons a l'interior de l'àrea. La posa a l'interior de la petita per Griezmann. I Griezmann d'Esperó al primer toc. Supera Senjo. És un gol de Tracatraca i mocador. Gol del Barça. Villareal 0. Barça 1. Ter Stegen. Se la treu de sobre amb l'esquerra. Posa el cos Messi. Quina jugada de Messi. Com ha baixat la pilota Messi. Continua Messi. Continua Messi. Ha soperat dos homes la dona. Per Luisito, la rosca. Gol! 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 De Luisito, el depredador Suárez! Aquest sí que és un gol de Tracatraca, 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 i mocador! Messi fent de boi al cercle central. Posa el pit, punxa la pilota a terra, supera dos homes, fa l'obertura a l'esquerra i des de la frontal de l'àrea el primer toca el depredador de Rosqueta. Gol! Un gol preciós per empatar amb una llegenda del Barça. Luisito Suárez amb aquesta rosca ha fet els mateixos gols defensant l'escut del Futbol Club Barcelona. Conmita, con una llegenda eterna, Ladislau, Cubala! Felicitats de predador! Gol de Tracatraca i mocador del nou, Villarreal 1, Barcelos, Luisito Suárez! La pilota Semedo, Semedo amb Suárez, Suárez per dins, la posa per Griezmann, Griezmann, Messi, Messi entra a l'àrea, la deixa d'esperó per Griezmann, que la pica! Gol! 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 Picadetta! 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 Don Juan Griezmann! Quina jugada tan preciosa che ci ha avuto il Barca l'assistenza d'Esperò è del miglior del planeta Terra Lionel Messi che deixa la pilota senza mirare Esperò a la fronte dell'area e Griezmann al primo toc con l'esquerra picadeta, picadeta, picadeta picadeta, Vasalina per superare Senko Ibarraka es va passare la pilota Ara també rep Rakitic Rakitic, Braithwaite el Barça amb passades curtes al peu i a veure si surt una mica el Villarreal I Arturo que va anar al partit al final Arturo cap enrere Araujo Araujo amb l'anglè l'anglè cap a l'esquerra per Alba Alba fa una passada aprofitat per Ansu, molt interessant a veure què fa Ansu, Ansu encara al central l'Albiol, Ansu se la posa a la dreta continua Ansu El xut, gol! 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 D'Anso Fati a l'estàdia de la Ceràmica Aquest nano té gol! Aquest nano té desequilibri! Aquest nano pot marcar la diferència sistemàticament! És juvenil i està completant una temporada descomunal Rep Alba a l'esquerra Passada amb profunditat per Ansu Espera't un moment que haurem de marcar la línia Ara baixo els meus decibels perquè no me la vull tornar a passar A més, Ansu és que encara al Viol hi fa una cosa intel·ligentíssima que és que primer li fa una sotana però és que sorprèn a Senjo perquè li canvia de pal la rematada A Senjo se l'espera a la seva esquerra al pal llarg, diguem-ho així i Ansu amb tota la mala baba del món Mira, és que gairebé ni mira Ni mira per sorprendre a Senjo i li clava la pilota al pal cura amb sotana inclosa La posa al parerisme Grisman d'Esperol A l'àrea de la rematada queda solta La rematada Luisito Gol! 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 Del depredador Del depredador Del depredador Del depredador Del depredador Del nou de Luisito Suárez Gol importantíssim de Luisito Un altre gol importantíssim de Luisito I ell va sumant gols i va sumant gols i va sumant gols Passada amb profunditat a l'interior de l'àrea de l'Espanyol Acaba Ravenna En aquest desmarcaggio Grisman Grisman d'Esperol Al primer toc La posa all'affrontal de la patita La rematada Al primer toc de Messi Rebota Anca Brera La pilota queda morta all'interior de l'àrea I apareix el depredador de la sabana futbolística Per fer el primer Gol Eccoci che siamo ritornati qui in diretta su Radio Barça Italia Avete ascoltato i gol del Barça a Villareal e il gol nella derby contro lo Spericos Mi è piaciuto il nuovo appoggio che l'ha messo il depredatore il depredatore dell'area futbolistica no della sabana futbolistica che è riferito ovviamente all'uscito su Arez che ha fatto ieri l'ennesimo gol ovviamente è stato proprio di rapina nell'area nell'area di rigore allora diamo il benvenuto nel consueto angolo sulla Liga punto Liga Roberto Bucci di Passione Liga ciao Roberto ciao Max un saluto da Alberto ciao Roberto eccola Giussi Zaffiro ciao Giussi come stai ciao Max ciao Alberto buonasera a tutti allora eh caro Roberto la Liga va avanti la Liga va verso va verso la la sua il suo termine il Real Madrid è di nuovo il Barça è di nuovo un punto dal Madrid ma il Madrid è una partita in meno anche diciamo in queste due giornate sono fioccate e le grandi eh grandi eh polemiche arbitrali in particolare la partita col Bilbao io l'ho detta nell'editoriale ha fatto ha scoperchiato tutto non è più il Barça che si lamenta il Bilbao c'è andato giù tesantissimo con i suoi giocatori nell'intervista a fine partita e con il presidente e la giunta direttiva eh Basca e il punto sulla Liga tra chi gioca e chi non gioca secondo te però deve tener conto di questo fattore VAR che ormai colpisce non solo l'advento del Barça no perché l'Atleti Club nella partita se Arvino prendeva un punto non solo l'advento del Barça non solo l'advento del Barça